Sono stato qui da solo tempo fa. Bruce mi aveva fatto andare nella foresta da solo per la prima volta. Non avevo idea di cosa ci fosse. Eri solo un ragazzino e quelle erano le lezioni che ti ha insegnato. Bruce era uno psicopatico. Usava la paura per controllare tutti. Ma devi assicurarti che questo non capiterà a qualcun altro. L'alleato di Batman è stato trovato morto stanotte. È finita per me ora. Diventa un Batman migliore. Barbara. Bentornato a Gotham, Dick. Batman è sparito. Gotham è mia ora. Stiamo indagando su chi ha all'interno Red Hood. Bruce ha detto diventa un Batman migliore. Ho convocato i Titans. Sai quanto questo sia folle? Entrare nei panni di tuo padre. Lo so, commissario Gordon. Ora tutto il mondo è sottosopra. Sto perdendo la testa. Se tu sei Dab, io sono Hook. Va fermato. Per casi del genere ci rivolgiamo a un consulente. Spaventa passeri. Dottor Crane? Dick Grayson. Red Hood è un fratello biblico. Il re si muove furtivamente nell'ombra, mentre i pedoni sono inviati verso i denti della distruzione. Ed è solo la sua mossa di apertura. Da dove vengo io? Se minacci la famiglia, non mostriamo pietà. coronavirus, spaventa passeri. Grazie a tutti